morfail max 1 è l'autore della ripresa video che state vedendo adesso partiamo subito con un cambio di luce devo dire anche abbastanza veloce e negli adattamenti di luce ci spostiamo sulle mollette qui per provare la messa a fuoco che in modo del tutto automatico sorprende sorprendentemente davvero veloce video che vi ricordo sta registrato da una camera da 8 megapixel proviamo anche lo zoom digitale fino a 4 per potete l'immagine sicuramente non altissima ma per la fascia di prezzo in cui si inserisce questo device devo dire risultato abbastanza soddisfacente per cui vi ricordo video da morfail max 1